tanto meno per il Bari al quale è rivolta oggi l'esortazione degli inseguitori dei rossoneri in 23 partite a Milano il Bari ha infatti totalizzato ben 19 sconfitte non sono mancate però le sorprese uno nel torneo 46 47 successo dei pugliesi per 2 a 0 un'altra questa il 3 aprile 1961 quando il Bari vinse a San Siro per 3 a 1 quello stesso anno la formazione pugliese retrocesse in B ma nonostante questo riuscì a fare il colpaccio benché il Milan fosse in corsa per lo scudetto finì poi secondo le spalle della Juventus autori del gol in questa partita del 61